ciao sono stefania e volevo accompagnarvi in questa meditazione che non solo rilassa ma ci permette di riconnetterci con il nostro bambino interiore e amare di più noi stessi mi è sempre piaciuta questa citazione che fa con il tempo vedi le cose più chiaramente inizia a dare alle parole il giusto peso ai gesti il giusto valore e alle persone la giusta importanza ricordati però che la persona più importante sei tu quindi approvvigionati di un foglio di carta dei colori e rappresenta un oggetto con cui immagini di rilassarti non bisogna essere dei grandi pittori per dare vita al nostro disegno pensate che i bambini mescolano i colori e creano immagini la coordinazione occhio a mano la forza delle dita della mano così come le capacità motorie le trarranno beneficio quindi lasciati andare e rimanendo nel tuo mondo segreto concentrati sul tuo capolavoro che poi potrai toccare con mano buon ascolto e buona visione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti spero che il mio video ti sia piaciuto e se ti va di rimanere aggiornato ti basta cliccare su mi piace iscriverti al mio canale e ci vediamo al prossimo video